Polemica su Daniele Paudice quando manca pochissimo alla sua scelta. Il tronista di uomini e donne trema. Sul suo conto arrivano nuove segnalazioni. Altro che Santerellino, hai capito Danielino che ci combina. Se questa cosa è vera, allora credo proprio che Maria dovrà prendere provvedimenti e allontanarlo. Di questi personaggi ne abbiamo fin sopra i capelli. Siamo stanchi, è ora di fare una bella pulizia. Non tutti condannano il tronista. Sul conto di Daniele il pubblico si divide. Daniele l'ho conosciuto a NY quando era il modello per la campagna pubblicitaria di Tiffany, ragazzo gentilissimo e perbene, un ragazzo con fortissima personalità e con grande attaccamento alla sua famiglia. Forse per questo ci tiene ad avere un atteggiamento di rispetto nei confronti di Gaia. Preferisco le persone semplici ma sincere come lui e le persone false che sanno usare forse meglio di lui la lingua italiana. Si legge su Instagram. A far sollevare un polverone una segnalazione che il sito Comingsun.it così racconta. Tuttavia, alcuni utenti, sui social, hanno notato un like sospetto di Daniele a una foto di Gaia risalente a ottobre 2023. E ancora, e questo dettaglio, riportato a Lorenzo Pugnaloni e da lui condiviso nelle stories, ha scatenato il dubbio nei fan. Che Daniele e Gaia si conoscessero già da prima del programma? In molti, in realtà, già da prima di questo like sospetto avevano notato che il tronista e la corteggiatrice erano entrati subito in confidenza. Insomma, Daniele avrebbe mentito alla produzione, in realtà già conosceva Gaia. Tornando alla scelta, ormai è questione di poco. Daniele dovrà per forza scegliere entro il 6 maggio, quando ci sarà l'ultima registrazione dell'attuale stagione di Uomini e Donne. Poi la trasmissione finirà in vista dell'arrivo dell'estate. Pugnaloni ha infatti scritto su Instagram lunedì prossimo ultima registrazione di questa edizione, perciò lunedì si registrerà anche la scelta di Daniele.